Ciao a tutti che ho ascoltato di Meteo e ben trovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace e iniziarci a seguire per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento Meteo. Mi raccomando iscrivetevi perché bene il 77% di voi guarda i nostri video ma non è iscritto. Per voi è un piccolo gesto ma per noi è di fondamentale importanza per portarvi nuovi contenuti e migliorarci. Inoltre è gratis e così non perderete nessun nuovissimo aggiornamento sulle previsioni del Meteo. Bene detto questo andremo a vedere l'analisi per i prossimi giorni e come possiamo proprio ben vedere dell'area molto più umida andrà a investire il nostro territorio ma attenzione perché poi dal 10 ci sarà già una prima infiltrazione d'aria un po' più fresca sulle nostre regioni centrosettentrionali ma l'aria fredda scorrerà abbastanza facilmente sopra le Alpi. Una data che a noi interessa molto di più è verso il 13 quando una massa d'aria fredda dovrebbe spostarsi proprio verso la nostra penisola a partire proprio dal 13 e come possiamo vedere scenderebbe proprio verso la Francia. Con questa situazione si andrebbe a creare un minuto depressionario tale da richiamare questo nucleo d'aria fredda questo piccolo laghetto freddo che scende dall'Artico e porterebbe sicuramente del freddo rispetto ai giorni precedenti forse uno degli ultimi se non l'ultima eruzione d'aria fredda e nevicate che tornerebbero nuovamente anche abbondanti a quote pressoché bassi intorno ai 700 metri soprattutto sulle Alpi e sui 1000 metri e comunque 800 metri sull'Appennino. Aria fredda che dovrebbe investire tutto il nostro paese ma ormai essendo troppo fuori stagione durerebbe veramente pochi pochi giorni. Vi ringraziamo della visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale Lasciate un mi piace e iniziate a seguire per non perdervi nessunissimo aggiornamento meteo.